Ciao ragazzi, sono in piazza, in un lino che si chiama, come si chiama, le dune credo. La sabbia, che deve depositare. Bella raga, sono tornata dalla marea del 5 e ho ancora i capelli bagnati perché siamo andati a fare la spesa e ho preso delle cose da mangiare e ho preso delle cose nuove da assaggiare perché qui non c'è la stringa in Puglia. Quindi ho preso delle cose al leader e dopo vi faccio vedere gli assaggi. Buonasera raga, oggi praticamente non ho vloggato perché stamattina sono andata a accompagnare mio padre all'aeroporto e c'era tipo un casino, non si sentiva niente. C'era gente che urlava da tutte le parti, c'era un casino, non sono riuscita a stare dietro con quel telefono o tutto, tirare fuori lì. Poi c'era anche mio padre, quindi prendevo male, dovevo salutarlo, stare lì dietro con i bagagli e tutto. Poi mia mamma oggi ha avuto l'idea di prenotare a Rimini. E ragazzi, non è che parto magari tra, che ne so, cinque giorni, no raga no, no. Parto domani, quindi ho dovuto prendere la valigia, cioè abbiamo mangiato, già abbiamo mangiato tardi. Avevo iniziato a fare la valigia alle tre, io ho iniziato tipo a tirar giù i vestiti, poi mia mamma fa Ma aspetta, io non ho tanti vestiti, andiamo a comprarli, quindi siamo andati ad Arese, abbiamo comprato i vestiti per mia madre e a una certa, cioè adesso, siamo appena tornate a casa, quindi raga non ho ancora mangiato, devo finire la valigia, devo tipo sistemarmi tutto. Andiamo. E niente raga, quindi mani sono al mare, anche io potrò fare il vlog tutto il giorno, cioè potrò vloggare tutto il giorno e niente, magari vi faccio tipo alcuni spezzoni, tutto, cioè dopo, più che altro, perché adesso devo tipo sistemare la valigia magari faccio tipo spezzoni mentre sistemo la valigia, oppure cosa mangio, vi faccio un po' vedere raga, perché se no non riusciamo più. E' la situa, cioè, raga, questa è la situa, la nostra situazione, raga, cioè, guardate quante cose mi ho messo nella valigia per adesso e quante cose ne abbiamo accumulate, raga, cioè, non ce la possiamo fare. Cioè raga, stiamo impazzendo, non ho ancora mangiato e sono le, sono le 9 e non l'abbiamo ancora mangiato, cioè, oddio, veramente raga. Raga, allora, sono più o meno, più o meno, a buon punto con le valigie e devo ancora mangiare, sì, sono le 10 ma li devo ancora mangiare e ho preparato tipo lo zaino e ho messo tipo dentro il tablet tutte queste caccate varie e magari c'è tipo, mentre sono al mare col telefono, carico, che ne so, il tablet e poi la sera magari torno prima di mangiare mi guardo le nastri di tv e tutte queste caccate varie, visto che comunque ho il wifi gratis. E niente, raga, c'è tutto qua, magari dopo vi faccio vedere che ne so cosa mangio, tutto, e vedremo, dai, a dopo. Quando sono tornata dalla, dal Lidl, siamo andati in piscina, andati per questo che ho i capelli bagnati e adesso sono uscita dalla piscina che sono le 8 e 10, dovrei andarmi a tuzzare e mi preparo, mi trucco, mi mmm e andiamo a mangiare una pizza, molto iasi, e vediamo se riesco un po' a vloggare, ma tanto dico sempre così, ma anche ieri non ce l'ho fatta, quindi ma più che altro perché c'è gente e mi guardano male, e niente, volevo salutarvi, ciao! Raga è l'uno e io ho appena finito di fare tutto, quindi raga io vado a letto e niente, ci vediamo in un prossimo video. Bella a tutti!